Ripartire dopo tre sconfitte consecutive in una settimana non è facile, Simone Biagi non si nasconde. Siamo ancora all'inizio, c'è un campionato davanti, la squadra deve ancora lavorare tanto, abbiamo avuto un po' di problemi in questo periodo, però sono sicuro che comunque ci rialzeremo. Davanti serve essere più cattivi, ma non è solo un problema di attaccanti. Sì, qualcosina in questo momento davanti diciamo che bisogna concretizzare un pochino di più le azioni che si creano, però stiamo facendo un buon lavoro a livello difensivo e in mezzo al campo creiamo azioni, però bisogna finalizzarle. E sabato arriva il Cesena, sicuramente sarà una squadra diversa da quella vista nella scorsa primavera. È una squadra importante, molto forte, organizzata molto bene, però noi siamo una squadra che possiamo fare risultato con tutte.